buonasera a tutti oggi è martedì 3 ottobre sono le 19 e 24 e dato che su house of trading mi hanno chiesto un parere su euro dollaro mi sono un attimo rimesso a rivedere bene la centratura e ok effettivamente hanno fatto delle cose interessanti ok da quello che vedo l'ultimo movimento che mi aspettavo era una salita la salita è arrivata ma attenzione perché sembrava molto che fosse partito un nuovo annuale vincolato a continuare a far salire i prezzi e invece no la cosa che mi fa più piacere però è vedere come anche se purtroppo lascio perdere un grafico per del tempo perché siamo più concentrati su dax mib s&p 500 nasdaq oro bitcoin eccetera ok funzioni tutto a dovere nonostante purtroppo abbia dovuto rivedere che cosa potrebbe succedere ovvero una finta ribasso con rialzo invece che la partenza appunto di un annuale inverso nonostante swing violati eccetera ma come al solito sono tre le cose da vedere ovvero swing come allarme volumi e poi tempo ciclico sotto un massimo oppure sopra un minimo e che cosa è successo ok facciamo un diamo un'idea di a che punto siamo arrivati siamo arrivati a che quello che vi dicevo che mi piace tornare sui grafici e vedere se le cose hanno funzionato e che qui c'era il punto j arrivati a violare questo minimo e noi avremmo dovuto abbandonare l'idea di un annuale inverso già vincolato a far salire euro dollaro per cui eccoci qua e l'abbiamo violato sì il punto j quindi ottima come come discorso seconda cosa per riuscire a centrare per bene euro dollaro e scena messo di tempo perché di lato indice tanto quanto 264 barre un movimento ok anche se fatto da un primo t più 3 e un secondo t più 3 che per adesso è più lungo ok però non è complessa come come centratura siamo in death cross stiamo perdendo di di smalto stiamo continuando a venire giù come dei dannati ok è l'inverso anche appunto con un raccordo è ci ha dato sicuramente del filo da torcere ed ecco perché siamo andati al punto j il gem ovvero il blocco il come si dice in italiano l'incasinamento di quello che era la strada principale ovvero della salita e infatti abbiamo avuto discesa perché abbiamo avuto questa discesa per questo fantastico meraviglioso favoloso raccordo di inverso e questo raccordo verso di grado t più 3 inverso ovvero trimestrale inverso lo si può collocare soltanto tra un t più 6 inverso un t più 6 inverso tra un biennale inverso un biennale inverso ce li abbiamo sul secondo non possiamo ancora saperlo perché con 56 giorni sotto massimo abbiamo soltanto un annuale ok perché abbiamo un annuale è perché abbiamo un trimestrale fortemente per ora rialzista di inverso e per quanto riguarda quel t più 6 ce l'abbiamo per avere poi un raccordo ovvero una finta di grado di 3 gradi inferiori di inverso sì ce l'abbiamo ecco qua da questo massimo abbiamo fatto un primo annuale inverso un secondo annuale inverso che si è fermato qua a 600 giorni e sappiamo che il massimo poteva fare il doppio di 336 ovvero 672 e poi abbiamo avuto quanto di raccordo abbiamo avuto e anche qui fatto in maniera davvero infame ve lo devo dire ma veramente infame abbiamo avuto 60 giorni ok 60 giorni che sono appunto un t più 3 inverso matematica questo metodo statistico matematico non discrezionale tutto corretto torna tutto sì qui è finito il biennale inverso qui abbiamo fatto un raccordo corretto tra un biennale inverso e un biennale inverso qui possiamo aspettarci continuazione di discesa per un altro per ora annuale inverso ma rischiamo di vedere un biennale inverso e quando avremo la conferma dal tempo del biennale inverso e quando avremo un semestrale sotto questo massimo a 1,12757 ok quando arriveremo al 96esimo giorno ne mancano 40 quindi campo a cavallo che l'erma cresce avremo la conferma che da qua non sta partendo soltanto un annuale d'inverso ma un semestrale e dopo ribadisco una gran bella finta e una precedente chiusura di biennale non fatta in maniera canonica ma violando determinati swing che potevano indurre a per cui non semplice e stiamo vedendo queste manfrine queste belle finte e da un po di tempo ormai questa quando è stata fatta a febbraio quando abbiamo avuto quella sugli indici europei a gennaio ok poi hanno ripreso qua eccetera eccetera però adesso questo discorso per cui arriviamo come al solito ad essere concreti d'accordo allora 1 mensile arrivato a 27 bar ha già la condizione necessaria e sufficiente per chiudere assolutamente sì ce l'aveva qua 19 no quindi qui è la prima volta che abbiamo la condizione necessaria e sufficiente sufficiente non definitiva per chiudere 27 barre ok possiamo anche chiudere qualcosa di più è tutto ribassista per cui sì sì possiamo chiudere l'impossibile di più oltretutto a quanto tempo di secondo semestrale siamo arrivati siamo arrivati a 144 barre su massimo 168 quindi sappiamo che al massimo se vogliono continuare a scendere lo possono fare per 168 meno 144 ovvero 24 giorni con 24 giorni facciamo partire persino un nuovo mensile e lo facciamo ancora vincolare a ribasso se avessero la volontà ci serve un mensile che parta per far chiudere qualche cosa di inverso ci serve un rimbalzo sostanzialmente fate di sì con la testa sì ok perché ci serve un rimbalzo abbiamo bisogno di una certa entità iniziamo a vedere se rimbalziamo se chiuderemo con questa d'oggi o con una candela di spinta oggi il 3 10 abbiamo bisogno per il fatto che di inverso abbiamo fatto che cosa qui dovrò continuare la centratura perché non ho avuto tempo ma l'ho fatta di corsa 32 giorni di inverso primo mensile inverso chiuso con che cosa con tutti i crismi per farlo e qui abbiamo chiuso qualche cosa qui a 22 barre no e no minimo ne dura 24 quindi abbiamo bisogno di un baffo che può arrivare anche tardi è d'accordo ma che già che abbiamo condizioni fatte potrebbe anche arrivare qua e come dicevo riascoltatela nella diretta di house of trading che dovrebbe tra poco essere o già essere a disposizione sempre sul canale investimenti bene per i bar e questo è un massimo importante 1,06171 se viene superato ci fa partire bel ciclo ci fa partire solo un rimbalzo misero per poi se si torna sotto di 1,0 4485 rivincolarsi a scendere per continuare a chiudere il semestrale e l'ultimo mensile in essere arrivato a 27 barre per questo motivo il punto di attenzione su cui mettere un allarme è 1,06171 1,06171 nuovo ciclo importante ok perfetto il secondo allarme da mettere ovviamente sotto 1,00 4485 metto chiusura di perché se dovessimo fare solo un rimbalzo di gatto morto non arrivare qua sopra non arrivare sopra questo massimo a 1,06171 e poi rischeremmo di ritornare appunto sotto questo minimo e se facessimo un vincolo su un settimanale prima della sesta barra potremmo continuare ad andare short ok direi che è tutto spero di aver risposto alle tante richieste appunto di fare euro dollaro mi raccomando se vedete qualche cosa che non torna a livello ciclico ditemelo perché ho fatto veloce volevo avere anche il tempo di scandagliare a livello di centratura e di sottocicli di t settimanale questo e questo movimento e poi anche questo movimento ma avendo visto determinate cose per adesso direi che dovrebbe essere una centratura accettabile se dovessi fare un altro intervento domani è perché continuando a scendere a livello di t settimanale ho trovato qualche cosa magari che non funzionava e preferisco raccontarvi qualche cosa di differente altrimenti due allarmi per valutare movimenti a rialzo attenzione alla chiusura d'inverso perché chiuso l'inverso poi si torna a scendere ok e vedere che cosa voglia di partire appunto da questo minimo ok direi che tutto vi auguro una splendida serata arrivederci grazie 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 grazie